Fai il cristiano! 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 Oh Mike! Hai visto? Non hanno scritto niente sulla nostra manifestazione! Ma come no? Dopo tutto quello che abbiamo fatto! Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Libertà! No! 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 No!